Non posso che esternare tutta la mia delusione, in quanto dopo tanta attesa mi sarei aspettato da Zelensky non tanto il numero del pianoforte suonato con la minchia, ma almeno due note di flauto suonato col culo. No, vabbè, ma... Non capisco perché Zelensky non si dimetta per salvare la situazione, invece questo rambo del discount ci coinvolge al punto che l'unica speranza di salvarci dall'atomica russa è che cada a Napoli.